Amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni autosportive. Oggi parliamo di Fiat, parliamo di Fiat Coupé, quindi sono una macchina che diciamo negli ultimi anni è abbastanza rara lavorare su macchine di questo genere. Erano macchine che 10-15 anni fa sicuramente erano macchine molto più diffuse e abbiamo fatto decine e decine di lavori su queste macchine. Recentemente sono passate diciamo nella categoria delle young timer, delle macchine storiche, quindi si sono ridotte molto, vengono utilizzate molto meno e quelle che solitamente sono in giro vengono trattate proprio come delle vecchie signore diciamo così. Allora anzitutto prima di descrivere che cosa stiamo facendo farei un breve escursus su cosa significa Fiat Coupé. La Fiat Coupé appunto è una vettura prodotta dal gruppo Fiat dal 94 al 2000, quindi fine anni 90. La particolarità che è stata diciamo insieme al centro stile pininferina è stata disegnata ed è l'unica macchina Fiat ad essere stata disegnata da Chris Bengall. Chris Bengall era quello che era il capodisegnatore del centro stile BMW e quindi diciamo come nota di riferimento sicuramente interessante. In circa sei anni di vita diciamo così ne sono state prodotte oltre 70 mila, quindi è una macchina che ha avuto un discreto successo ed è stata proposta con quattro motorizzazioni, due aspirati e due turbo, quindi due aspirati il più basso è il 1800 di derivazione Fiat Barchetta e il 2000 il famoso bialbero lampredi che poi è lo stesso motore che equipaggia la delta integrale che è stato proposto appunto 2000 aspirato e 2000 turbo 5 valvole per cilindro. Poi riferito sempre alla versione turbo che poi è questa versione qua c'era anche il 2000 esattamente lo stesso motore del delta integrale quindi quattro cilindri quindi non cinque cilindri come il precedente ho sbagliato non valvole voglio dire cinque cilindri quattro cilindri in linea stesso motore montato sulla delta l'unica differenza sostanziale che rispetto alla delta ha una più o meno una decina di cavalli in meno quindi 190 cavalli rispetto più o meno i 200 della delta integrale però il resto è esattamente perfettamente identico quello che caratterizza questa vettura è l'ottima aerodinamicità diciamo perché nonostante abbia una cavalleria 190 cavalli oggi fanno ridere cioè un turbodiesel appena appena di classe superiore non dista dietro una macchina del genere nonostante questo con un'aerodinamica molto particolare riusciva a fare lo 0-100 in sette secondi ricordiamo che stiamo parlando della fine degli anni 90 quindi non non paragoniamole a vetture di recente costruzione e al di là di quello che era lo 0-100 un altro aspetto che raggiungeva i 225 chilometri all'ora addirittura hanno fatto nel diciamo fine produzione hanno fatto una limited edition che riusciva a toccare i 250 all'ora ed era ai tempi la vettura fiat più veloce allora in produzione entriamo nello specifico a questo punto di cosa stiamo facendo qui e ricapitolando questo è il 2000 turbo con il motore del della delta la macchina è stata diciamo restaurata o più che restaurata direi conservata perché non è stato non è stato fatto un restauro diciamo integrale ma è stato ripreso e ripreso nel suo insieme tutta la parte quindi il corpo garazzeria e il motore per tenere al più possibile originale quindi una macchina tenuta molto bene ma comunque utilizzata regolarmente quello che per il momento il cliente ci ha affidato perché in tutti questi anni ovviamente non ha tantissimi chilometri questa macchina dovrebbe avere più o meno sui 96 97 mila chilometri però al di là dei chilometri che comunque non sono pochissimi è il numero di anni che ovviamente incide anche su alcune parti meccaniche quindi quello che ci ha chiesto il cliente aveva gli ammortizzatori completamente finiti perché ai tempi poi non erano ammortizzatori di qualità eccelsa e quindi siamo intervenuti andando a sostituire gli ammortizzatori la particolarità di questa storia qua è che purtroppo con macchine datate quindi con macchine che hanno un po di anni la reperibilità di componenti sportivi in questo caso noi ci affidiamo a bilstein come ammortizzatori e abac come molle abbiamo anche sentito precedentemente la coni piuttosto che la hr sua morale della favola che quegli ammortizzatori per questo modello qua nessuna casa gli aveva a disposizione la particolarità e come direi la piccola soddisfazione che abbiamo ottenuto e questo fa parte del buon rapporto che uno deve mantenere non soltanto con i clienti che sono fondamentali ma anche con i fornitori si è riusciti ovviamente ci sono voluti cinque mesi il cliente è stato disposto ad aspettare e ce li hanno costruiti appositamente cioè adesso qua si vede il posteriore classico ammortizzatore bilstein giallo l'anteriore verrà montato successivamente perché ha un procedimento di sgancio della molla molto particolare bisogna stare molto attenti a sganciare quella molla lunga perché se uno non sa non è più che accorto si fa del male comunque diciamo che la particolarità di questo lavoro è proprio stata quella di come dire di avere avuto una come dire da parte di una ditta molto grosso cioè la bilstein è un'azienda enorme con i loro tempi ce li hanno costruiti appositamente quindi diciamo che il tempo ha pagato il cliente quando gli consegneremo la macchina lui voleva proprio bilstein b6 infatti la vettura non ha l'assetto diciamo sportivo quindi ha le molle completamente di serie e quindi l'ammortizzatore che noi stiamo montando ha la stessa altezza dell'ammortizzatore originale ovviamente andando a cambiare gli ammortizzatori conseguentemente che stiamo cambiando i cuscinetti anteriori degli ammortizzatori i tamponi fine corsa diamo un controllo generale a tutto quello che è il sottoscocca della vettura però questa vettura al di là del fatto che l'ammortizzatore aveva la sua vita è d'accordo diciamo che si presenta molto molto bene il cliente basta vedere non so anche la marmitta che è completamente nuova sicuramente questo è un lavoro che non abbiamo fatto noi ma sicuramente il cliente ha già fatto altri interventi per mantenere sempre in piena efficienza appunto questo genere di vetture secondo me io sono un fautore delle macchine storie perché come ho detto tante volte sono macchine che hanno un'anima quindi indipendentemente dal fatto di fare un lavoro per noi non è che cambia molto fare un lavoro su una macchina che ha vent'anni venticinque anni piuttosto che una macchina che ha due mesi è proprio una questione di quando uno prova poi la macchina perché qualunque macchina che noi facciamo poi facciamo un giro di prova tutte le macchine moderne sono comodissime sono accessoriatissime hanno un sacco di gadget elettronici però dal mio punto di vista poi mi posso sbagliare una questione totalmente soggettiva hanno perso l'anima cioè io dico sempre bellissime macchine però quando l'uno le guarda in autostrada sembrano tutti uguali uno le guarda da dietro l'altro giorno erano in autostrada da una hyundai una bm sembravano tutti uguali cambiano di pochissimo mentre le macchine di una volta uno addirittura le riconosceva dal rombo della macchina poi chiaramente una macchina di questo genere non si poteva confonderla con nessun'altra avevano una personalità che adesso purtroppo si è persa anche l'odore il gli scricchioli è un modo di guidare cioè è anche il fatto di trattarle come dicevo all'inizio da vecchie signore secondo me è coerente sono delle macchine che dal mio punto di vista hanno un'anima e avendo un'anima vanno trattate non come dei pezzi di metallo ma come delle macchine che devono avere un determinato tipo di rispetto mi sembra più o meno mi sono dilungato un po tanto su questa puntata perché appunto per il momento la parte diciamo meccanica era abbastanza semplice io spero che questa puntata vi sia piaciuta nel caso in cui dovessimo fare degli altri lavori degli altri aggiornamenti su questa vettura faremo una puntata di faremo un'altra puntata dedicata per il momento è tutto qualunque informazione voi vogliate vi suggeriamo come tutte le volte di andare a vedere il sito www.nomenegiri.it soprattutto cliccando nella sezione archivi elaborazioni dove trovate più di 3500 schede vettura troverete anche diverse fiat coupé e fra qualche giorno troverete anche la scheda di questa fiat coupé in particolare mi potete trovare ci potete trovare telefonando in sede allo 027383175 e soprattutto cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo alla prossima ciao